Vai Maurizio, eccogliamo l'occasione per citare anche l'insegnante di chitarra, altro bravissimo personaggio che spesso abbiamo il piacere di ascoltare nelle sue serate, nei suoi concerti alla chitarra è Pino Mazzarano, facciamo un applauso tutti insieme. Ascolteremo Maurizio Vinci in un brano dal titolo Blue Monk. A presto. 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 A presto.